Ciao a tutti e come avete visto dal titolo oggi ho fatto un altro upgrade al mio laser. Cosa ho cambiato? Ho cambiato la scheda madre. La scheda madre è quella che comanda tutto il laser praticamente, quello che dà impulso ai motori, impulso al laser eccetera eccetera. Perché l'ho cambiata? L'ho cambiata per due motivi. Prima di tutto il mio laser, come tutti sanno è una mezza vecchia carretta che sto rimodernando piano piano, però ci sono tanto affezionato che non lo voglio prendere e mettere in un angolo perché è quello che mi ha insegnato a fare tutto quello che so. Allora, è una scheda ad 8 bit, ve la faccio vedere, questa è quella che ho smontato dal mio laser. Vedete che ci sono quei due farini rossi, uno l'ho appoggiato e uno è sulla scheda madre. Cosa sono quelli? Sono i driver dei motori stepper, che sono fondamentali per far funzionare il nostro laser. Con cosa l'ho cambiata? L'ho cambiata con una scheda un po' più moderna, stessa marca, Maker Base. Era Maker Base la DLC 2.1, adesso ho preso una Maker Base DLC 32 2.1, che è quella che vedete in questo momento, vedete che ha i driver spostati in basso perché non li avevo ancora montati. Quella vedete adesso invece con i driver montati e quello filetto che vedete è un'antenna. Allora, perché ho fatto questo aggiornamento? semplicemente perché ho voluto ammodernare il laser e anche perché ho voluto testare questa scheda che ho consigliato, stavo per dire una stupidaggine, ho consigliato spesso a chi aveva dei problemi con la propria scheda madre, che magari aveva perso il periodo di garanzia per cui non gli veniva fornita una scheda nuova e gli ho sempre consigliato una Maker Base DLC 32 versione 2.1. Perché questo? È una scheda moderna per i laser. È una scheda che praticamente equipaggia tutti i laser moderni. Perché adesso vi faccio vedere la mia vecchia scheda madre, quindi la DLC 2.01, che equipaggiava un laser vecchio e queste sono le, prendo ad esempio, due schede madre, una di Atomstack e una di Sculpfon, che funzionano sulla stessa scheda, sullo stesso circuito. E vi spiego quali sono le differenze fra la vecchia e la nuova. Ecco, come vedete da quello che c'è adesso sul mio schermo, ci sono le differenze tra la vecchia mksdlc, quella che avevo prima, e la mksdlc32. Allora, la prima praticamente ha un processore Atmega da 8 bit, la seconda 32 bit, quindi ha quadruplicato, diciamo, la potenza. La frequenza del clock è andata, cioè la frequenza della CPU è molto aumentata. Scusate, non sono proprio un tecnico di queste cose, per cui, per quelli più esperti, se dico una castroneria, perdonatemi per cortesia. Dunque, diciamo che ha una frequenza di 20 MHz, questa è di 240, quindi è molto più veloce. Abbiamo una memoria flash di 32 Kbytes e qui abbiamo 8192 Kbytes. A una rama da 32, passiamo a 520. Tutte e due avevano una potenza di input da 12-24 volte, 12-24 volte anche quella nuova. La velocità del laser qui andava da 3000 mm al minuto, adesso va a 8000 mm al minuto. Francamente l'ho provato a forzarla, va anche oltre. Poi, vediamo che questa supporta anche quella nuova UN, o schermo, touchscreen a cristalli liquidi, ma ne parleremo in un altro video, perché non voglio fare una cosa troppo, troppo grossa. Poi, ha la possibilità quella nuova del Wi-Fi, infatti l'antennina che avete visto era proprio per il Wi-Fi, ha la possibilità di un'app su un telefono mobile, quindi su uno smartphone, e, vabbè, tutte e due supportavano e supportano ancora Laser JRBL e Lightburn. Perché ho fatto il raffronto fra queste due schede della MakerBase? Perché effettivamente le case che montano schede per controller, diciamo, di laser, utilizzano la piattaforma MakerBase. Poi la chiamano in un altro modo, vedremo che si chiameranno LaserBox, piuttosto che in altri modi, LTS e così via. Ogni casa ha la sua. Io vi ho messo gli esempi solamente di due case, che sono le più, tra virgolette, rinomate, e forse anche vendute in questo momento nel mondo del Laser, che sono Atomstack e Sculpphone. Anche se Sculpphone si differenzia un po', perché lavora sempre su una base MakerBase, ma molto più personalizzata rispetto alla Atomstack. Anche tutte le altre, faccio per esempio, ho visto per esempio la TwoTrees, o piuttosto la McPow, eccetera, derivano tutte quelle ultime dalla DLC32, con delle piccole modifiche e principalmente la modifica che mi sta più a cuore è quella del discorso dei driver. Adesso vi faccio vedere in queste foto la DLC32 MakerBase MKS, quella originale, e le derivazioni delle case, delle altre case. Faccio esempio con Atomstack, ne faccio una, ma vale per tutti. E sono i driver. Con quella originale si possono cambiare i driver. Con quelle invece di derivazione, quindi riassemblate, ricostruite per i vari casi costruttrici, i driver sono saldati. Perché vi dico questo? Dico questo perché spesso i driver saltano, sia che siano inseriti, sia che siano saldati. Se sono saldati, signori, dovete cambiare la scheda o vi rivolgete a un bravo tecnico che riesce a dissaldarvi il driver, riesce a trovare un circuito da sostituire, ve lo risalda, con la scheda originale, togliete quel ponticello, adesso ve lo faccio vedere come piccolo, come si fa presto a togliere quello che avete visto nella prima scheda che ho messo da parte, anche nella mia nuova scheda messa da parte, se inserisce si rispetta la polarità e va tutto a posto. Quindi questo è il motivo per cui ho deciso di acquistare una scheda, anche se non avevo bisogno, perché volevo anche testarla, perché la consiglio, l'ho consigliata, alcuni amici mi sono venuti dietro, perché costa molto, molto meno di una scheda, diciamo, originale. Cioè, una Makerbase DLC32 costa, io l'ho pagata circa, comprensivo di driver, anche se non l'ho comprata perché io ce l'ho una scorta, perché mi è successo due anni fa che mi saltasse proprio, si è rotto un driver e praticamente con una spesa erisoria di 2 euro ho ricomprato il driver, l'ho cambiato e sono a posto di lì, c'ero 4 o 5 di scorta, per cui per questa che ho comprato li avevo già, non li ho ricomprati, ma una scheda con i suoi driver non costa più di 20-22 euro. Io l'ho comprata solamente la scheda, poi avevo un po' di sconto con Aliexpress, in una società in cui compra abbastanza, mi fanno un piccolo sconto, ho pagato sui 18 dollari. Quindi ho consigliato, non andate ad acquistare quella originale perché ci sono poche differenze, il firmware più o meno lo stesso, fa tutto quello che fa quell'altra, al limite perdete una o due cose che sono, non so, il funghettino rosso di emergenza, la chiavina per impedirne l'accesso, sono cose che secondo me sono non fondamentali. Però avete una scheda di ottima qualità, con un prezzo erisorio che al limite vi potete anche tenere in casa, e penso a chi magari De Lobby ne ha fatto diventare una specie di, non dico professione, ma quasi, che quindi magari può avere delle commesse, deve incidere una certa quantità di prodotti, gli si rompe la scheda madre perché gli è saldato, gli è saltato un driver, deve contattare la ditta, farsi mandare tutta roba che è in Cina, oppure ben che vada è in Germania o in Spagna, gli arriva in 5-6 giorni, io ho la scheda lì, cioè i miei driver lì, 3 minuti me la cambio, 3 minuti no, ci ho messo 20 minuti a sistemare il tutto, me la cambio e me la metto a posto. Questo è il motivo per cui principalmente ho cambiato, non avevo bisogno, la mia andava ancora bene e me la tengo ancora cara, non si sa mai, mi si rompesse questa, la sostituisco velocemente. Ma anche, e qui vi lancio un teaser, cioè vi mando un segnale, l'ho fatto perché sto sperimentando altre cose con questa scheda, sto sperimentando lo schermo perché se volete chi non l'ha lo fa touch, fa uno schermino touch se lo mette sul suo computer ed altre cose che vedremo insieme. Quindi, questo è uno dei video che farò su questa scheda, ce ne saranno altri. Questo è un po' quello che vi volevo dire, non penso di avere altro da aggiungere, se non, se volete investire 20 euro per avere una scheda di riserva che vi può far comodo in qualsiasi momento, basta solo al limite su alcuni laser, c'è da cambiare il cavetto del laser perché ad esempio Atomstack ha due cavetti da due pin, questo ne accetta uno da tre pin, ma basta prendere due cavi, mettere uno in un posto, uno in quell'altro e funziona lo stesso. Oppure, se trovate qualcuno che ve lo fa, io per esempio ho sempre dei pin in questo modo, non mi faccio cavetti, mi faccio un po' tutto e riesco a farmi da solo. Però, se al limite avete bisogno anche di una piccola, fra virgolette, consulenza, sapete che sono sempre a disposizione di tutti, chiedetemi pure. Io questa ve la consiglio, mi sento di consigliarla anche come scheda di riserva che costa sicuramente la metà o anche molta di meno rispetto a quelle schede originali. Adesso io vi saluto, vi ringrazio, mi auguro che questo video vi sia piaciuto anche se è abbastanza, fra virgolette, tecnico, però diciamo che potrebbe esservi utile ed è già stato utile a molti miei amici iscritti al gruppo Facebook, eccetera, eccetera, che hanno seguito il mio consiglio, hanno riparato la loro macchina con la metà del prezzo e sono soddisfatti. Diventa offline, potete utilizzare le schedine, eccetera, eccetera, e potete metterci anche il monitor touchscreen che vi farò vedere in un prossimo video. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta. Dimenticavo, vi metto in descrizione il link se siete interessati ad acquistare questa scheda. Praticamente è su Aliexpress e ha un costo veramente abbordabile. Ci sono le varie tipologie, c'è sia la scheda nuda con solo il cavo, la scheda con i driver, vi consiglio quella se non avete driver, la scheda driver più il monitor, vi dico che il prossimo video sarà sul monitor da 3,5 pollici, come ho comprato io, sempre da questo sito e vi metto anche gli stessi link su Amazon, che è la stessa roba, vi arriva magari un pochino prima se avete fretta, però costa abbastanza di più. Un'altra cosa, iscrivetevi al canale, cioè cosa aspettate? Iscrivervi al canale, chi non è iscritto. Quindi, mi piace se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto non mettete niente, è meglio. Poi, quindi un like, iscrizione, campanellina e ciao a tutti.